Una delle più belle chiese veronesi verrà riscoperta grazie allo studio realizzato da un giovane appassionato, Angelo Passuello, dottore di ricerca in storia dell'arte medievale, con il volume Storia e restauri della chiesa di San Lorenzo. Il libro innanzitutto voleva colmare questa lacuna dal momento che San Lorenzo è una delle chiese più importanti di Verona, ma non era ancora stata adeguatamente studiata. Con questa ricerca, che è tratta dalla mia tesi di dottorato che ho discusso presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel settembre del 2017, ho cercato di rendere merito, nel limite del possibile, a questo straordinario monumento che purtroppo era un tempo isolato ed emergente lungo l'antica via Postumia, ma oggi è praticamente soffocato dagli edifici che gli stanno attorno e quindi non è conosciuto da tante persone. Il libro, 300 pagine corredate da fotografie e rilievi per le edizioni CR, sarà presentato venerdì 1 giugno alle 18 all'Ordine degli Architetti, agli ex magazzini generali, alla presenza dell'autore, del Rettore di San Lorenzo, Don Rino Breoni e di altri studiosi. La chiesa è sicuramente un unicum a livello peninsulare, quindi a livello italiano, per la presenza di queste grandi torri scalari, circolari, che enfatizzano il prospetto di facciate e permettono di accedere alle gallerie, comunemente chiamate matronei, di cui San Lorenzo è l'unica chiesa del Veneto, assieme a San Marco a Venezia, ad essere provvista. Insomma, quindi la presenza delle torri, delle gallerie, di un apparato scultoreo assolutamente raffinato e anche di una concezione della materia architettonica, questo sapiente uso dei materiali, l'alternanza fra calcare, mattoni, per creare questo effetto bicromo che venne usato per la prima volta da Sanferma a San Lorenzo, ma poi diventerà il tratto distintivo dei più grandi complessi romanici veronesi, come San Zeno e il Duomo. Nel libro, la prima parte, traccia un po' la storia della chiesa, dalla fondazione avvenuta in epoca alto medievale fino all'epoca moderna. La seconda parte si concentra sulle due grandi campagne di restauro, la prima realizzata alla fine dell'Ottocento dall'allora rettore Don Pietro Scapini, che decise di emendare le superfettazioni dei suoi predecessori per ridonare alla chiesa l'aspetto romanico che ancora oggi la contraddistingue. Il grande restauro, invece, post bellico, condotto da Piero Gazzola, dopo che tre incursionere anglo-americane avevano praticamente fatto collassare le coperture della chiesa, e quindi si è dovuto intervenire in maniera drastica.